Musica 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 Ovviamente con tanto impegno Quindi lasciate like anche per dare questo Io ragazzi direi subito di andare a giocare Ma prima di tutto ragazzi andiamo a migliorare Questi due giocatori Quindi schiacciamo allena ragazzi Spenderemo almeno 200.000 Però qua ci sta Allora miglioriamo 67.000 Che ci portano Ok Se si muove Ragazzi è un po' mancato Alla livello 5 Ok Va bene Confermiamo E nuovo grado 50.000 Nuovo grado Ottenuto ragazzi 100 di generatore Più 1 di generatore Sono contentissimo Molto bene ragazzi Lasciate like Perché questo video ragazzi è veramente un video leggendario Dovete lasciare tutti un bel like Ora andiamo a migliorare l'altro Poi andiamo a fare un'altra partita Sono veramente contento Allora alleniamo Andiamo a spendere ancora un po' di soldi Però vabbè ci sta Alleniamo 77.500 E va bene Va bene Però ci sta Ci sta E lo portiamo al Quals'ora Alleniamo Confetto Ma Andiamo portiamolo al nuovo grado Grado centro Sono contentissimo ragazzi Andate a vedere anche il primo video In cui prendono questi due giocatori Più 99 Andiamo a giocare ragazzi Sono veramente contentissimo Confermiamo Adesso ragazzi sarà sicuramente molto più forte la nostra squadra E ancora però generatore 98 Dobbiamo migliorare qualcos'altro Ma con calma ragazzi Troveremo altri giocatori Che magari potremmo usare per spaccare tutto Allora adesso ragazzi Però andiamo a giocare Con fronte Andiamo a fare una partita ragazzi E sono veramente carichissimo Contentissimo Andiamo a giocare Però ragazzi Devo vincere We have to win Volete lasciare like Se mi volete portare fortuna Mi raccomando Io vi voglio bene Seguitemi ancora Tutti i giochi su Discord Terzo e quinto link in descrizione Quarto link in descrizione Per entrare in mio server Discord Avrete dei vantaggi se entrate Primo link in descrizione Per seguirmi Per comprare le mie t-shirt Personalizzate di Xmax Vedremo che sarà il terzo della storia Comprarla E secondo link in descrizione Per fare una piccola donazione E vedremo che sarà il 10 Con una donazione di un totale di 20 euro E 55 centesimi Vi ricordo di cliccare il tasto Iscriviti Allora questo qui Ha la squadra un pochettino più forte della mia Non so se riuscirò a vincere Però ha dei buoni giocatori ragazzi Quindi non so se riuscirò A portare a casa la win Allora Bruno Fernandes Sì no è Fernandes Se non è Bruno Fernandes Allora Condividete il video ragazzi Perché appena arriviamo le 4 mila ore di visualizzazione Non riuscirò ai abbonamenti E con soli 99 centesimi Potete abbonarvi A avere le emoji con scritto di Xmax Con scritto Scarsun E con scritto la bottiglia più famosa di YouTube Italia 1-0 Per il Xmax 1-0 per noi Vi mando un bacione ragazzi Grandissimi Ricordate che per un altro livello di abbonamenti Magari che costerà un pochino di più Ci saranno le sponsorizzazioni dei canali E li chiamate su Discord Per gli abbonati Mi raccomando di sapere aggiornati 1-0 Ragazzi so che non Riuscirò così tanto A questo A 1-0 Quindi ragazzi Meglio 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 Sempre segnati in più Allora questo qui adesso Mi ha regalato un pallone Non so per quale motivo Sarebbe bello Fare un altro gol E lo facciamo 2-0 Per il Xmax Y Grande gol Di Duan Mamma mia ragazzi Tra l'altro questo giocatore L'abbiamo trovato in un altro video Quindi andatelo a vedere Ragazzi c'è la playlist di FIFA Mobile Allora la connessione inter Nell'avversario è instabile Tentativo di riconnessione in corso Forse ragazzi esce pure Vabbè ragazzi Siamo ancora al decimo minuto Rivale di sconnesso Vabbè ragazzi Allora questa partita l'abbiamo vinta Però la giochiamo comunque Perché sappiamo che il bot È comunque molto forte Su FIFA Quindi si può ovviamente Vincere Si può ancora perdere Anzi potrebbe Potrebbe segnare No 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 ragazzi No 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 Non ci posso credere Mi ha segnato il bot Dai ragazzi Se sto qua vince Io mi arrabbio Dai ma come fa il bot A segnare Come fa il bot A segnare Ragazzi Come fa il bot A segnare Ma non è giusto No io veramente Non ho parole Ma poi la mia difesa Stava ferma A non fare niente Ma cosa è possibile Sta cosa Allora cross in mezzo E no non segneremo Infatti Ragazzi Sta andando male Sta andando male Con questo bot Dove è la mia difesa Non vedo Oh ragazzi Non ci posso credere Il nostro segnano Io mi arrabbio Oh ma Io sto giocando malissimo Ragazzi Oh Non posso prendere gol Dai Non può Questo qua non può pareggiare Grazie al bot Dai Forse senza bot Sarebbe ancora 2-0 Forse O forse 3-0 Io non lo so No ragazzi Non è possibile Oh my god Ma il bot è troppo forte Il bot è troppo forte Ragazzi Allora passiamo La carriera intanto Può fare magari qualcosina Però ragazzi È vero Il meccale Non c'è parola Ragazzi Ma ragazzi Ma ragazzi Ma non è presente Ma non è presente Oh Mamma mia ragazzi Ma il bot Ma quanto è forte Ragazzi Ma sono pure Difensivo Ma Come è possibile Come è possibile Dai batti Eh vabbè Oh my god Eh no ragazzi Segui Ok Grifo Grifo Di segnare Please Please Grifo Pele 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 vai avanti Cross in mezzo Pele E arriva il gol 3 a 1 Per x max Questo qua ragazzi È un gol importantissimo Di Eh Un contropiede Di Pele Molto bene ragazzi 3 a 1 Per noi Sono veramente contentissimo Mira quando ragazzi Lasciate tutti un bel pollicione In su Al video Allora Andiamo avanti Con Grifo Vediamo un po' Sottiamo qui Molto bene Grande Grifo No 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 Grifo 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 Recupera il pallone Grifo Grifo Fernandez Il tiro di Fernandez Non ci posso credere Fernandez Sbaglia di pochissimo Purtroppo Andiamo avanti Finisce il primo tempo Ragazzi Contentissimo 3 a 1 Allora 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 Vediamo un pochettino Ragazzi Dovete lasciare like Però mi raccomando Ovviamente Il miglioritendale Mamma mia Ho scivolato Ho scivolato No Dohan Allora Ah qua bisogna Per forza Per forza Vinci Dai Il passaggio Per Dohan Grande Pepe No Dohan Ho svegliato il passaggio Beh ragazzi Ok Beh niente Sbaglio Il passaggio Beckham 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 il cross In mezzo Nostra Nostra il pallone Molto bene Dobbiamo vincere Dobbiamo vincere No Eh vabbè ma cos'era Cos'era Ho per sbaglio Sbagliato a schiacciare Sullo schermo Vabbè ragazzi Ci sta 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 Va bene Va bene Basta concentrarsi Dovete lasciare Like Spero di Questa musichetta Di sottofondo Che sentite Spero che vi piaccia Spero che vi piaccia Tutto il mondo Mamma mia Ok 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 Molto bene Non ha segnato Grifo Ok 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 Abbiamo un'altra possibilità Fuori gioco Fuori gioco Ci sta Ci sta Ci sta ragazzi Siamo a 75 Ragazzi Dobbiamo cercare Di concentrarsi Allora Messi bisogna Cercare Di concentrarsi Molto bene Va bene Va bene Messi Non ce l'abbiamo Però Spero di prenderlo Prima o poi Allora Vediamo un pochettino Allora Andiamo a fare Ragazzi Like Iscrivetevi Alla campanella Ora che batte Questo Comunque ragazzi Vi ricordo Intanto di seguirmi Su Discord Terzo Quinto Link Nel Quinto Nel Quinto Nel Primo Nel Nel Comparamento Short Persona X Max E Invece ragazzi Secondo link In descrizione Per fare una piccola donazione Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi Attivate la campanella Mi raccomando Allora Kerer Va avanti Kerer 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 Il passaggio per Pelé Ancora Pelé Molto bene Per Pelé Che passa Kerer Ancora Kerer Potrebbe arrivare un bel cross In mezzo Che arriva 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 Il tiro E la palla da fuori Di pochissimo Andare ragazzi Pure calcio d'angolo Pure calcio d'angolo Allora Molto bene No ragazzi No Non 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 Ci possiamo far Niente Grande scivolata Di grifo Che porta il pallone fuori Molto bene Dai Abbiamo avuto Vinto noi Mamma mia Porta Xmax Nei commenti Allora Allora Eh no Deve Di toccare Qui Allora Eh no Deve segnare Grifo Finisce qua 3 a 1 Per noi ragazzi Vi ricordo di lasciare un like Un iscritto nella camprella Questi due giocatori Più cento di generatore Sono fortissimi Io vi voglio bene Al prossimo video di fifa Vi voglio bene ragazzi Comunque video di generale Adesso vedete anche i video Ieri Stiamo i guys Vi voglio bene ragazzi Lasciate like Iscrivetevi Attivate la camprella Al prossimo video di video di live Perché appena arriviamo alle 4.000 ore Di visualizzazioni Ci sono i momenti Ciao a tutti ragazzi Però devo vedere Quanti tifosi sono arrivati Ok Più 1600 ragazzi Molto bene 1600 1600 Oh 6900 Su like ragazzi E poi vi vedete Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao